Se guardi questa videocassetta, potrebbe essere l'ultima cosa che farai! Ma è terribile! Chi può averla buttata? In un parco pubblico! Comunque, che cos'è? Non lo so, sembrerebbe un libro di plastica con un nastro dentro! Forse è uno yo-yo di prima che scoprissero la gravità! Provalo! Visto? No! No! Non trattarla così! È un VHS stregato e tu dovresti vederlo con un videoregistratore! Un che cosa? Ecco, questo è un VHS! Diciamo che il problema è che la gente non rimanda mai in testa le videocassette! Senti, io avrei da fare! Non si potrebbe vederlo in streaming? Abbi pazienza! Non hai mai visto niente del genere! Fa' attenzione e ti renderai conto di qual è la maledizione di Elmore! Sarò all'ennesimo videoclip, giusto? No, sarà ben altro! Ti svelerà un lato oscuro di questa città! A prima vista potrà sembrarti solo una semplice raccolta di cose assurde che accadono a ogni Halloween! Insomma, i soliti scherzetti! A chi non piacciono, dico bene! Ding dong! Dolcetto scherzetto! Scherzetto! Ma che? No! Soltanto ufette e barretta cereali! E di persone che tornano in vita! Qui siamo al sicuro! Oh, salve! Lei ne avrà visto tante e forse potrà spiegarci qual è il vero significato della vita! Che dovete viverla al massimo, ragazzi! Guardate me, io ne ho fatte di ogni! Sono saltato da un aereo! Sono saltato da un aereo! Sono saltato da... Non hai fatto altro? Beh, avevo 18 anni! Comunque, no! E allora, com'è stata la sua vita? Oh, è stato un vero sballo per circa 70 secondi! E poi tanto, 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 tanto brutto per altri due! E com'è stato vivere al massimo? Pensateci su! Preferireste vivere la vita al massimo per 70 secondi? Oppure annoiarvi per 70 anni? 70 anni? Sicuro? Non andatevene! Io mi annoio qui! Aspettate! No, no! Non so se mi spiego come disse il paracadute! O di Didi che diventano fantasmi! Hai visto? Posso volare? Sono invisibile! Mi sento alla grande! Salve, Larry! Oh, ciao! Che cosa posso fare per te? Ti dichiaro in arrosto!